E' stato approvato il bilancio 2012 della regione Abruzzo e siamo con il presidente della prima commissione, bilancio Emilio Nasudi, con il quale affrontiamo subito questo argomento e quali novità naturalmente con questa manovra finanziaria. Anche quest'anno abbiamo rispettato i tempi, quindi abbiamo tolto l'incubo della gestione provvisoria, quindi bilancio approvato, è il terzo anno. Una finanziaria, come abbiamo detto anche in precedenza, ristretta in termini di numeri, però che guarda bene al futuro. Ristretta perché abbiamo anche quest'anno dovuto tagliare molti capitoli, però è un modo di stringere la cinta per poi ridare agli abruzzesi in appresso un bilancio solito che non è fatto più di debiti ma è fatto di prospettiva. Quindi benvengano le restrittezze se le stesse portano ad avere un bilancio più sano, più solido per le future generazioni. E' un bilancio, possiamo dirlo, risanato? Sì, decisamente sì, perché diciamo che già da marzo dovremmo uscire definitivamente dal piano di rientro sanitario, quindi si riallargeranno un attimino le birrie della brossa. E più è un bilancio che tutto sommato dà risposte, dà risposte ai vari territori perché su tutte e quattro le province ci sono azioni importanti e quindi ritengo essere un bilancio giusto. Naturalmente le minoranze diranno che si poteva fare di più, si poteva fare meglio, sicuramente lo possiamo dire anche noi. Noi sappiamo una cosa che è certa, abbiamo messo l'attenzione soprattutto a bloccare quelli che erano i flussi di debiti. Oggi è un bilancio fatto solo nella logica del risanamento. Il risanamento significa, come ho detto prima, dare prospettiva ai nostri ragazzi.